Ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra vetrina dell'auto. Sono molto molto contenta di presentarvi per la prima volta GMA, concessionaria Opel. Accanto a me il titolare Vittorio Fordini. A te. Ciao Rosi e benvenuti a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Soprattutto benvenuti in GMA, concessionaria Opel per Novara e provincia. La nostra sede storica, che è questa, si trova proprio nel centro di Novara, in via Battistini 30. Pensa a Rosi che GMA è stata fondata nel 1962 e da allora è sempre appartenuta la stessa famiglia e abbiamo sempre rappresentato il marchio Opel. Che bello! Ma non voglio dilungarvi con quella che è la nostra storia. Lascio subito la parola a Marco e Manuele, in quanto hanno delle offerte veramente imperdibili da presentarvi per il mese di marzo. Ciao a tutti! Grazie Vittorio, ciao Rosi e un saluto ai nostri telespettatori. Marzo è il mese di corsa. Pensate che può essere vostra a partire da 9.650 euro con la super rottamazione GMA. Diamo uno sconto fino a 5.000 euro. E sulle versioni ancora più complete, Innovation e B-Color, offriamo corsa, 5 porte, completa di tutto, vetri posteriori oscurati, interni in pelle, cerchi in lega, a 10.700 euro chiave in mano. E con la formula scelta Opel, il modo più intelligente di comparare la tua nuova Opel, offriamo corsa con piccole rate a partire da 99 euro al mese, già completa di tutto. Furto incendio, garanzia estesa, venite a trovarci! Ciao Rosi e ciao a tutti i nostri telespettatori. A marzo abbiamo un'incredibile offerta su Mokka X. Per la prima volta, solo da GMA, il contributo rottamazione è esteso a tutti. Avete la vostra auto da rottamare? Per voi fino a 6.000 euro di incentivo se ci portate la vostra vecchia auto. Inoltre, solo per marzo, questo contributo è esteso a tutti, anche a chi non ha l'auto da dare in permuta. E grazie a questa strepitosa offerta, Mokka X completa di tutto, cerchi in lega, radio touchscreen, climatizzatore, volante multifunzione, può essere vostra a 16.900 euro. O con la formula scelta Opel, in piccole rate da 169 euro al mese, in cui potete includere nella rata anche assicurazione, manutenzione e garanzia estesa. Proseguiamo con il grande successo che sta avendo Crossland, il SUV compatto di Opel, che in soli 4,20 metri riesce ad avere fino a 500 litri di bagagliaio. Abbiamo fino a 5.000 euro di contributo rottamazione, il che ci permette di avere Crossland all'incredibile prezzo di 14.900 euro. Oppure, con la formula scelta Opel, in una piccola rata da 149 euro, in cui potete aggiungere i servizi come manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione, furto incendio e garanzia estesa per 5 anni. E ora presentiamo Carrox, la nuova City Car SUV Style di Opel. Pensate, in solo 3,68 metri abbiamo 5 comodi posti e appunto un look SUV Style. Un favoloso motore 1.000 da 75 cavalli. Pensate, disponibile anche nella versione GPL, un pieno a soli 13 euro. E' tra i consumi più bassi della categoria. Ovviamente, il contributo rottamazione GMA può essere vostro a partire da 10.500 euro. E con la formula scelta Opel, piccole rate mensili a partire da 99 euro. Venite a vederla. E veniamo alla novità di casa Opel. Grandland, il grande SUV di Opel. Massimo comfort, tecnologia, connettività. Insieme a materiali premium e a un design fortemente personalizzabile. Sicuramente uno dei suoi punti di forza sta proprio nella linea sportiva, grintosa. Una linea davvero accattivante. Ora però lascio la parola a Manuele che ci illustrerà gli aspetti tecnici e le motorizzazioni. Grazie Marco. Grand è disponibile sia in motorizzazioni benzina che turbodiesel. Abbiamo un innovativo 1.2 turbo 130 cavalli e un ottimo 1.6 turbo diesel 120 cavalli. Entrambe disponibili sia in versione con cambio manuale che automatico. E per i più esigenti un 2.177 cavalli con cambio automatico 8 rapporti. Ma la cosa più sconvolgente sta nel prezzo. Marco, stupisci i nostri telespettatori. Dici bene Emanuele perché Grandland per tutto il mese di marzo, grazie al contributo GMA di rottamazione di 5.000 euro, potrà essere vostro alla incredibile cifra di 21.900 euro. Completa di tutto. O con la formula scelta Opel in una rata da 219 euro al mese. Davvero un piccolo prezzo per una vettura straordinaria. E per qualsiasi ulteriore informazione venite a trovarci in concessionaria. Ora andiamo a vedere alcune delle nostre occasioni a chilometro zero. Eccoci, siamo all'interno della nostra officina. Uno dei nostri punti di forza per presentarvi le vetture a chilometro zero. Passo quindi la parola a Emanuele che ve le illustrerà. Inizierai con Zafira qui nella versione 134 cavalli turbodiesel advance. Prezzo di listino 32.500 euro. Scontata verrebbe 24.400 euro. E se dite che vi manda la Rosi ulteriori 1.000 euro di sconto portano il prezzo a 23.400 euro. Stupenda questa Opel Astra nel nuovo modello, 5 porte Innovation, completa di tutto. Prezzo di listino 27.500 euro. E se dite che vi manda la Rosi ulteriori 1.000 euro di sconto che portano lo sconto a 8.200 euro, vostra a soli 19.400 euro. Nuovo Mokka X, qui nella versione Innovation, la più completa. Prezzo di listino 28.200 euro. Prezzo GMA 21.200 euro. E se dite che vi manda la Rosi ulteriori 1.000 euro di sconto portano il prezzo a 20.200 euro. Con uno sconto totale di oltre 8.000 euro. Ultima unità disponibile di Opel Insignia. Qui nella versione Full Option al 170 cavalli con cambio automatico, telecamera, davvero completa di tutto. Tenetevi forte. Prezzo di listino 40.170 euro. Prezzo GMA 27.500 euro. Se vi dite che vi manda la Rosi il prezzo diventa 26.500 euro. Con uno sconto di ben 13.600 euro. Venite a trovarci. Proseguiamo con una bellissima Carl Advance nella sua versione B-Fuel, benzina e GPL. Abbiamo qua una vettura che di listino costerebbe oltre 14.600 euro. Grazie al nostro forte scontistica GMA la potete avere a 11.400 euro, ma non è finita qui perché facciamo un ulteriore sconto di 500 euro. Agli amici di Rosi e quindi un prezzo finale di 10.900 euro per una vettura GPL. Solo da GMA potete già trovare due Grand Land a chilometro zero. Abbiamo qua due esemplari davvero stupendi. Questa versione manuale 1.6 diesel nell'allestimento Innovation. Guardate che bello questo bianco perlato con fari full LED autoadattivi. Davvero una vettura strepitosa. Un prezzo che di listino è di 33.800 euro. Una scontistica riservata a voi di 6.800 euro per un prezzo finale di 27.000 euro. E ulteriori 1.000 euro di sconto per gli amici di Rosi e quindi un prezzo finale di 26.000 euro. Qua a fianco invece la stessa vettura nella versione con cambio automatico. In questo caso abbiamo un bel nero metallizzato. Freschissima, immatricolata 2018. Anche questa super accessoriata. Anche qui abbiamo un listino di 34.300 euro, 6.500 euro di sconto, un prezzo finale di 27.800 euro e un'ulteriore scontistica di 1.000 euro che porta a 26.800 euro per questa vettura. Chiudiamo infine con questa bellissima Astra Sport Tourer allestimento Innovation, motorizzazione 1.6, 136 cavalli, cambio automatico. Una vettura davvero completa. In questo caso abbiamo anche i fari full LED autoadattivi. Vettura che viene oltre 31.000 euro di listino e a cui riusciamo a fare una scontistica di oltre 8.000 euro. Per un prezzo a voi riservato di 23.000 euro. E da GMA anche vasta scelta di vetture usate ed aziendali. Qui un esempio su tutte. Mini nella versione turbo diesel, soli 77.000 km, anno 2013, gommata nuova con gomme invernali. La proponiamo al prezzo di 10.600 euro. Venite a trovarci. Abbiamo poi una stupenda Mazda CX-5, cambio automatico, quattro ruote motrici, motore un 2002 da 175 cavalli, una vettura veramente eccezionale, full optional, auto del 2012 che proponiamo a 14.900 euro. Davvero incredibile questa Kia Optima Station Wagon, completa di tutto. Parliamo di un maggio 2017, fantastica, con cambio automatico, soli 2.500 km, prezzo GMA 20.900 euro. Abbiamo poi un'ampia scelta di Insigna, aziendali freschissime, anno 2016, pochi chilometri, prezzi a partire da 19.900 euro. Vasta scelta di Opel Corsa in allestimento bicolor come questa, vetture aziendali un anno di vita, 20.000 km, prezzi da 9.500 euro. Abbiamo poi un'ampia scelta di Astra, sia 5 porte che Station Wagon, anche queste aziendali, a partire da 13.900 euro. E quale migliore occasione, se non questa bella nevicata, per presentarvi il nostro bestseller Mokka. Abbiamo vetture aziendali Innovation, quindi full optional, a soli 18.300 euro. Un saluto da Manuele e da Marco. Veniteci a trovare! Bene Vittorio, è al termine di questa passeggiata attraverso la tua concessionaria, volevi aggiungere qualcosa? Ciao a tutti, volevo solo farvi un saluto finale e aggiungere che questa è solo parte delle nostre occasioni che abbiamo da mostrarvi. Veniteci a trovare e saremo lieti di farvi vedere anche le altre. Ciao ancora! La vetrina dell'unclo!